La sostanza è stata trovata un po' dappertutto, già confezionata, dietro una specchiera, dietro l'acquario, dietro un telefono che era appeso al muro, quindi insomma loro evidentemente usavano il locale per occultare la roba e per spacciarla. Abbiamo comunque trovato anche i resti del confezionamento per cui pensiamo assolutamente che loro confezionino anche lì dentro. Una sessantina in tutto le dosi già confezionate di cocaina ed eroina nascosta in ogni angolo del locale, questo quanto scovato dalla polizia di Stato all'interno di un bar a retino nel corso del Maxi Blitz a Saione. Un servizio straordinario mirato sul quartiere ma esteso sino alla zona Giotto che si è concluso con due arresti, quattro denunce e tre segnalazioni alla prefettura, il sequestro di sostanza stupefacente e denaro ed infine la chiusura di un locale. È stata un'operazione che ha visto coinvolti diversi elementi della questura, la squadra mobile, l'ufficio volanti, il reparto prevenzione crimine toscana, è intervenuta anche un'unità cinofila della questura di Bologna e sono intervenuti anche oltre ai vigili urbani qui di Arezzo anche l'ASL e la polizia amministrativa sempre della questura di Arezzo. All'interno del bar Europa all'incrocio tra via Veneto e via del Trionfo sono stati sguinzagliati anche i cani antidroga che hanno subito annusato le dosi in possesso di due tunisini che sono così finiti in manette. Uno dei due arrestati si era addirittura nascosto in bagno. Quando siamo entrati abbiamo subito notato questa persona che si è precipitata in bagno, si è chiuso dentro, noi abbiamo poi sfondato la porta, l'abbiamo trovato appunto mentre stava cercando di disfarsi della sostanza, cercando di tirare giù l'acqua e di disfarsi della cocaina. Siamo fortunatamente comunque intervenuti in tempo, abbiamo sequestrato tutto. Sono stati inoltre segnalati come assuntori i due aretini, una 27enne ed un 50enne, quattro invece le persone denunciate perché irregolari sul territorio. Infine ai gestori del bar Europa è stata fatta una maximulta da 3.000 euro per gravi carenze igienico-sanitarie. Le indagini stanno assolutamente proseguendo per cui non è assolutamente escluso che questi quattro denunciati possano poi diventare indagati in termini di traffico e di spaccio di stupefacente.